Allora, quello 35,7. Questo 32,4. Questo 28,4, ma l'ho messo solo adesso, quindi sta salendo, superando i 30, non so quando. Vediamo, molto tempo ci mette. E lì, chi c'è lì? Che vedete? Dice quel pirulino, che cerca in tutti i modi di salvarsi. Ha avuto una bella pappa stasera. A ogni impappata sembra riprendersi, però non cresce, anzi, secondo me diventa sempre più piccino. C'è questa pancia oscura che non promette niente di buono, ma finché lui lotta, io rotterò. Quando lui si arrende, pazienza, piangerò come l'altra volta e mi rilasserò. E che devo fare? Vediamo che temperatura è arrivato questo. Beh, almeno 34 ci dovrebbero essere lì dentro, eh. Ma non 40 come l'era prima, che si stava rassando davvero. Però è incredibile, nonostante questa apparenza e gracilità, la forza di questo pirulino è davvero grandiosa. Se pensa a Massimiliano Gallo, che ha fatto morire quell'esemplare meraviglioso che gli avevo regalato, 75 euro, l'ha fatto morire perché di solitudine. Perché ci aveva da lavorare, poi ci aveva la famiglia. Quante volte gli ho detto di prendergli un compagno o una compagna? Non ha mai voluto. Questa è una cosa che non gli perdonerò mai, perché a lui non gliene importa niente. Dice, non vorrei mica criticare per un pappagallo. Io dissi, no, no, per carità. Certo è che da quella frase capì che lui proprio non gliene importa nulla. L'accidenta a me è quando gliel'ho dato. L'aveva già avuto, pensavo fosse esperto. Vedi come ci si sbaglia sulle persone? Eh? Eh vabbè, esperienza per il futuro, eh? Possiamo chiudere. Grazie a tutti.